Noi organizziamo questa mostra che è Chivani Sart 3, è la terza mostra che facciamo, la prima nel 2008, la seconda nel 2011 e quest'anno. È una raccolta di opere di artisti bergamaschi che noi abbiamo raccolto e ci sono state offerte per raccogliere poi fondi perché quello che recupereremo da questa raccolta abbiamo una serie di service da fare sempre legati ai bambini, bambini in difficoltà, bambini ammalati, associazioni che hanno bisogno di aiuto che non lo ricevono dallo Stato, dalle istituzioni. Quindi noi per quel poco che possiamo cerchiamo di fare questo. L'associazione nostra è il Chivanis Bergamo Aerobico Onlus, siamo una quarantina di soci e questo club è a Bergamo dal 1992. Ogni anno cambia il presidente, cambia il consiglio direttivo, ci sono sempre idee nuove, momenti nuovi e diversi per portare avanti quello che l'associazione vuole fare.